I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Poggio Reale, con il supporto dei militari del Nucleo Investigativo di Napoli e dei Gruppi Carabinieri di Napoli di Castello di Cisterna, hanno dato esecuzione a 15 ordinanze che dispongono all'applicazione di misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti a vario titolo, gravemente iniziati in ordini ai reati di usura e distorsione. Gli indagati avrebbero restorto denaro in danno di due uomini residenti nel quartiere Poggio Reale, i quali avrebbero contratto debili con tassi usurari spesso superiori al 100% mensile. Resta da arrestare una sola persona che è attivamente ricercata. L'ordinanza avesse dal GIP del Tribunale di Napoli ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di otto indagati e degli arresti domiciliari nei confronti dei restanti sette. Il provvedimento è eseguito una misura cautelare disposta in serie di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.